Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di Catechessi dedicato al libro di Tenera Amata. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti, ormai due settimane fa, a causa del mio ritiro di esercizi spirituali. Facciamo un piccolo ambientamento prima di riprendere la lettura. Abbiamo concluso la volta scorsa, abbiamo visto alcune caratteristiche belle che riguardano la vitalità della Terra e che sono anticipate da alcune esperienze terrene. Abbiamo parlato del saluto di mano, della stretta di mano, che è una pre-manifestazione del piacevole saluto celeste. Abbiamo anche visto qualcosa su quello che vivono gli animali, gli animali domestici, che non possono aspirare evidentemente alla gloria e alla visione beatifica, perché non hanno l'anima spirituale, quindi non si può dire che gli animali vanno in paradiso come ci andremo a noi, ma che nel paradiso ci sono gli animali. E saremmo noi a far godere, perché loro possano soltanto, come adesso, godono la nostra compagnia, la nostra presenza, così potranno godere la nostra compagnia però di anime beate, negli spazi e tempi che hanno caratterizzato la loro vita terrena, è che semplicemente sono e stanno e che permangono, come dovremmo aver ormai imparato, se non abbiamo imparato questo, fino a questo momento stiamo messi fino, permangono diventati nella quinta dimensione. Sappiamo bene che tutto quello che accade semplicemente è, quindi non è che una volta accaduto scompare e viene legato in un passato che non torna più. E l'unica eccezione a tutto questo è il non essere, che filosoficamente questo è il male, il male è privazione di essere, quindi il peccato, che come sappiamo è come se non ci fosse, quindi viene completamente cancellato. E quindi un motivo in più, sto facendo un po' un riassunto di tante puntate per fare l'attenzione di vivere in grazia, ecco, dato che è iniziata la quaresima, ribadire questo concetto non è mai inopportuno. Ecco, detto questo, riprendiamo la lettura, da dove ci siamo fermati, qui nella mia versione digitale del libro, siamo nel capitolo 25 e libro digitale, pagina 78, riprendo la lettura. Ci sono dei saggi, sta parlando Riccardo, che affermano che non esiste l'anima umana spirituale libera ed immortale. Dicono che quando il nostro Signore Gesù Cristo parla dell'anima umana intende dire il centro o nucleo vitale dell'uomo, non la sua sostanza spirituale. Sentirei che bella risposta a questi intelligentoni, professoroni che girano adesso. E allora stiano attenti alle affermazioni che propalano. Non succeda che per le loro idee, avventatissime, raggiungano in cielo appena la felicità proprio degli animali. Io ti insisto che accetti la Sacra Scrittura e la tradizione apostolica nel loro semplice linguaggio, senza storture, nei raggiri, d'accordo con il Magistero ufficiale della Chiesa. La parola divina non è stata dettata per i sapienti orgogliosi, ma per gli umili di cuore. Obbligatorio il primo pit stop, perché queste parole che sta dicendo l'amata sembrano di un'attualità assolutamente sconcertante. Quelli che si chiedono sapienti, si legge nel Nuovo Testamento, il San Paolo, se qualcuno si chiede sapienti in questo mondo, dice San Paolo, veda di farsi stolto, perché Dio ha già dimostrato la sapienza di questo mondo. Quindi quando una cosa è divinamente rivelata, sta dicendo, che c'è Sacra Scrittura e Tradizione e Magistero che sono d'accordo, il discorso è semplicemente chiuso. Chiuso. E' doveroso chinare la testa ed accoglierlo, anche se non si capisce bene, non si comprende perfettamente, perché come dice subito dopo, posso sicurare la lettura, sempre tenere l'amata che parla, non ti preoccupare per le apparenti differenze tra la rivelazione e la scienza terrena, apparenti differenze, attenzione, apparenti, apparenti significa che non sono mai reali, come basta rileggere, un bel documento di Giovanni Paolo II, non ci può essere nessuna contraddizione tra la vera scienza e la vera fede, perché quando sembra apparire una contraddizione, non dimentichetelo mai questo qui, la scienza non è scienza, oggi come oggi siamo all'80% dei casi, secondo me, mia opinione personale, oppure c'è una distorsione, una malcomprensione di una verità di fede, ma se c'è la fede vera e la scienza vera, non possono entrare in contraddizione, non possono, e lo spiega perché, perché quando la scienza è vera, quindi ha delle conoscenze certe di cose oggettive, tutto quello che è, tutte quante le leggi impressionanti, cioè le leggi della fisica, le leggi della chimica, le leggi della biologia, le leggi dell'atmosfera, le leggi dell'astrofisica, le leggi della matematica, le leggi della geometria, possiamo stare a parlare fino al giorno del giudizio, il povero scibile umano, che poi non è niente, è confronto a sapienza, può essere maiuscola, chi è che ha creato tutto, e ha posto queste leggi? è lo stesso che è l'autore della fede, lo stesso, non è che sono due entità diverse, e quindi, la somma sapienza e la somma intelligenza, può contraddirsi, stiamo scherzando, che razza di idee ci vengono per la testolina, che ci abbiamo, quindi non ti preoccupare per le apparenti differenze, tra la liberazione e la scienza terrena, forse il creatore è schiavo delle scienze, che lui stesso ha creato, la sua parola domanda fede, e non tanto dimostrazione oggettiva, ed evidente, e nemmeno corrispondenza, esatta con le, tra virgolette, meravigliose scoperte moderne, continuo a leggere, il nostro prevale, la scienza umana, attenzione bene, sta parlando con uno scienziato, Riccardo non era Pinco Pallino, era un astrofisico, la scienza umana tante volte sbaglia, cambia, e viene meno, ha studiato un po', anche di questa roba, lo sa bene, un giorno constaterai, quanto diverse si vedono le cose terrene, viste dal cielo, dall'alto in basso, anziché dal basso verso l'altro, come avviene qui, io non vorrei complicare troppo la faccenda, ma ci sono stati dei fiori pensatori, alcuni geniali all'inizio del secolo scorso, che hanno dimostrato, a fronte di tutti i quanti gli scientisti, i razionalisti, e quelli che si sciacquano la bocca, che adesso non fanno ancora di più con la scienza, con la S maiuscola e l'H finale, che ogni sapere scientifico, non può essere mai autoreferenziale, e quindi è sempre relativo, basta andare a vedere, per chi insomma c'ha la capacità di farlo, adesso non mi rilongo troppo, perché diventerò troppo difficile, studiarsi quello che ha scritto, e che ha detto Kurt Edel, quando inventandosi la geometria dello spazio cubo, ha relativizzato la geometria euclidea, che nessuno pensava si potesse, relativizzare nei suoi postulati, detti due parole, se tu applichi i principi della geometria euclidea nello spazio cubo, non funziona manco uno, perché la geometria euclidea funzionano nello spazio piano, non nello spazio cubo, e quindi un gota, d'accordo, dice, ma che la geometria non è una scienza esatta, è incontrovertibile, certo che lo è, ma non è assoluta, non è assolutamente controvertibile, è incontrovertibile dentro il suo campo proprio di azione, dì sì, vabbè, ti dico la parentesi, se no è troppo complicato, non comprendo perché è così bello il saluto celeste della stretta di mano, dice Riccardo, ne abbiamo parlato verso il termine della puntata precedente, risposta, l'immenso piacere della più piccola compenetrazione amorosa nella beatitudine è dovuta alla condivisione reciproca, attenzione, fra i glorificati, dei doni divini personali e irripetibili che Dio ha concesso ad ogni beato d'accordo col suo nome nuovo nuovo e con la dote di manna segreta, libro dell'Apocalisse, al vincitore darò la manna nascosta, è un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve, questa sagra scrittura non è tenera amata, cioè con la sfumatura singolare di felicità che gode ciascuno nella pace, nella patria, equivale ad una reciproca trasfusione di gloria e di gioia, consente un'indicibile intercomunicazione di felicità molto superiore alle brevi, limitate e superficiali carezze di quelli che si amano in questa vita. Allora amici, qui mi fermo ancora, questo rallegriamoci, ognuno di noi, perché se abbiamo tra i glorificati, anche prima di essere glorificati, noi siamo graziati, come si dice, quindi abbiamo ricevuto il dono della grazia, prima siamo graziati e poi glorificati, ma prima ancora che graziati siamo creati, siamo creati, graziati e glorificati, cioè l'ordine della natura, l'ordine della grazia e l'ordine della gloria, come si insegna in teologia. Allora, il nome nuovo, la dote, i doni divini personali e irripetibili appartengono all'ordine della natura e della grazia. personali, cioè parlo in prima persona, ma parlo in prima persona, ognuno di voi può prendere la mia prima persona, quello che ho io, quello che sono io, quello che ho io da un punto di vista di dotazione, di doni, miei, personali e non c'erano mai nessun altro, non c'erà nessun altro, il mio nome nuovo è il mio, la manna segreta nascosta che goderò io, è la mia, è la tua, è il tuo, non ce l'avrà nessun altro. Allora che succede? Se due beati si stringono la mano e si compenetrano, è chiaro che esploda un godimento ineffabile perché nessuno può darti quel particolare piacere che ti darà quel singolo beato. Anche se stesso ha un grado di gloria minimo perché ha comunque delle caratteristiche che ha soltanto lui. Noi qui se vogliamo bene a qualcuno proviamo un grande diletto nel contatto, anche se sappiamo che qui il contatto è specialmente fuori di certi ambiti, dopo torneremo su questo, dove purtroppo dovrà incalalarci il nostro Signore a causa dello stato di intervenzione in cui stiamo è sempre molto molto aleatorio chiamiamolo così, però procura evidentemente un certo diletto, anche grande. gli animali quando ricevono le carezze conguono, almeno gli animali domestici più comuni, i cani, i gatti, salvo che non capito qualche gatto forastico, non si fa toccare, però generalmente godono ed esprimono anche il loro condimento, i cani, i gatti, fanno la faccia languida e abbassano le orecchie e ridono gli occhi, ecco, scodinzolano, quindi fanno un sacco di cose, i gatti fanno le fuse per farci capire, fammela ancora che mi stai facendo tanto godere, ecco, gli umani diciamo che sorridono, quindi mostrano attraverso lo sguardo, attraverso l'atteggiamento, come dire, la gradevolezza che avvertono dinanzi a certe cose, A certe manifestazioni di amore, di affetto, qual è il contatto, il contatto bello che può essere una carezza, no? E dice Riccardo, immagino il felicissimo abbraccio delle coppie nei balli del cielo, perché la volta sforza, penso che ci saremmo ricordati che si è parlato di balli celesti, nei vulcani in mezzo alla lava o in qualche altro viaggio interstellare, sapete, quando si comincia a viaggiare a dei buoni livelli, rispetto alla volta scorsa posso darvi un'informazione in più, amici, che capite che anche viaggiare alla velocità della luce, credo che le anime che nell'altro mondo dovremmo viaggiare un pochino più velocemente, perché ho visto un bellissimo documentario dove praticamente mi sono stati dei numeri che ricordavo in maniera vaga, cioè noi siamo nella galassia che si chiama Via Lattea, per percorrere la Via Lattea da un estremo all'altro con un'astronave che supponiamo fosse capace di viaggiare alla velocità della luce, cosa che non esiste proprio, non esisterà mai secondo me 300.000 km al secondo se lo sogniamo proprio, vorrebbero soltanto 110.000 anni, ci rendiamo conto, quindi se tu viaggiassi alla velocità della luce anche dopo che sei morto, ci metti 110.000 anni per andare fuori dalla galassia della Via Lattea e attenzione che di galassie parlano di migliaia di miliardi di galassie esistenti, il numero che ho sentito in quel documentario è 5.000 di galassie, capite che significa 105.000 miliardi di galassie quando una la nostra che conosciamo ha questa proporzione gigantesca, chiusa parentesi, i balli del cielo, i sensi corporali risponde Tenerata, dopo essere glorificati funzionano intensamente, senza deficienze né debolezze, questo basta che uno apre la somma teologia, era vero anche per l'umanità perfettissima anche in questo mondo di Gesù e di Maria. Il tatto si esercita oltre che nella pelle, attenzione, in tutte le cellule dell'organismo integrale, tutte le cellule, non soltanto la pelle, perché quando tu ti interpenetri cioè noi in questo mondo conosciamo soltanto il contatto da pelle a pelle l'ha spiegato la volta scorsa che se noi ci potessimo interpenetrare adesso che te compenetri se ti si infila un coltello dentro il dito ti fa male, non le prove di letto ma nell'altra dimensione se ti si infila un coltello nella mano tu non provi sofferenza ma provi il diletto del contatto con gli atomi della lama ok quindi le cellule non qui possiamo conoscere sono sensibili diciamo così alla gradevolezza al piacere sono le cellule del tatto della pelle meglio non quelle dell'organismo integrale le quali godono e comunicano i loro piaceri all'anima che le governa l'acutezza tattile non si limita a sentire il caldo e il freddo nella forma e la consistenza dei corpi diventa enormemente versatile sentite bene fino a percepire differenziatamente una molecola diversa da un'altra capite cioè la raffinatezza e se raggiungi un alto grado di gloria un atomo un elettrone o un quantum di infraenergia capito cioè il contatto con l'elettrone l'elettrone è la parte in assoluto più piccola della 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 materia perché l'elettrone è la parte più piccola del nucleo di un atomo non del nucleo di un atomo il nucleo sopra i protoni e i neutroni è la parte più piccola dell'atomo quello che gira intorno al nucleo che è molto più piccolo cioè che ha capito cioè il mio tatto anche interno è capace di godere la gradevolezza che il singolo elettrone trasmette addirittura il quantum di infraenergia che non me li ricordo bene perché vorrei andare a ripassare qualcosa ma siamo ancora a un livello ulteriore e siccome ogni elemento singolo sentite è capace di comunicare per amore universale il dono specifico è ricevuto dall'altissimo attenzione ogni elemento specifico devo spiegare cosa sta dicendo sapete allora altro documentario perché adesso il signore siccome sto facendo sapete quanti neuroni ci sono nel cervello 100 miliardi di neuroni sono nel cervello 100 miliardi quanti atomi ci stanno dentro ogni neurone e quanti elettroni stanno dentro ogni neurone solo i neuroni voi immaginate quanti atomi ci sono dentro il nostro organismo o quante cellule non si sa ogni singolo elemento capito è capace di comunicare per amore universale il dono specifico ricevuto dall'altissimo quando uno va a vedere vedete i siti documentali i neuroni sono uno spettacolo i globuli bianchi sono uno spettacolo i globuli rossi sono uno spettacolo sono le cellule specializzate ognuno fa quello che deve fare quindi ha la sua caratteristica specifica il suo dono specifico ricevuto dall'altissimo fatte l'altissimo queste cose non sono fatte la sole e quando questa cosa viene inserita nell'orizzonte dell'amore universale la quidditas quindi che cosa diciamo per chi conosce la divina volontà il ti amo che veicola quella sostanza quella particella di materia diventa percepibile e tu lo senti attento non soltanto il ti amo di un globulo bianco ma il ti amo di ogni singolo elettrone di ogni singolo atomo di cui il globulo bianco è composto non soltanto capite allora per questo che ho spiegato dice siccome ogni elemento singolo è capace di comunicare l'amore universale il dono specifico ricevuto dall'altissimo il dono specifico del linguaggio della divina volontà lo chiamiamo il ti amo ti lascia immaginare l'immensa felicità che procura il tatto nella patria lo stesso potrei dire degli altri sensi corporali la vista l'udito l'orato e il gusto il gusto abbiamo già visto qualcosa con i liquori celesti con la pallottina fatta con il cellofan puntate precedenti no? Riccardo risponde è da vertigine pensare a tanti piaceri capito quello che ci aspetta questo perché qualcuno va adesso per esempio stiamo in quaresima no? ah la quaresima uh il cristianesimo uh sempre con queste croci sempre con le mortificazioni i digiuni le benedità bisogna soffrire ma c'è è chiaro che in questo mondo c'è la dimensione della croce per carità nostro signore l'ha detto chiaramente ma non finisce qui la quaresima finisce a Pasqua dopo Pasqua restano 50 giorni di gioia che sono figura cioè mentre la quaresima è figura della vita terrena perché qui stiamo in stato di interdizione non dimentichiamolo mai a causa del maledetto peccato quindi tutte queste cose qui non si possono vivere in questo mondo ma nell'altro sì però per vivere nell'altro mondo tu qui devi abbracciare la croce anche la croce della vita cristiana anche la croce dell'esercizio delle virtù quante volte quando Riccardo dice oh io voglio morire di scritta buono tu pensa diventa santo che poi godrai queste cose quanto più santo diventi tanto tanto più le godrai in ogni caso da vertigine è vero il nostro Dio è generosissimo il libro di Teneramata così come gli scritti del libro di Cero a mio avviso di Luisa Piccarretta rivoluzionano l'idea di Dio che noi abbiamo e anche se non viene evidentemente chiunque predicasse un Vangelo senza croce mandatelo da dove è venuto ok senza proprio il minimo ma la croce in questa vita è un altro d'amore è una cosa che è necessaria il Signore non l'avrebbe voluta di per sé ma è diventata necessaria e quindi proprio perché ci vuole bene e perché ci vuole ricompensare intanto alla grande il nostro Signore ce le manda le croci ma non dobbiamo fermarci a quelle Dio è generosissimo ricorda che non esistono due persone esattamente uguali il Creatore non si ripete nelle sue opere la cosa grande è non ripetersi mai ma provate a pensare a una cosa divertitevi un po' divertitevi le mani degli esseri umani sono tutte uguali? sì? no? bene sono tutte uguali hanno cinque dita hanno il palmo hanno il dorso va bene hanno le unghie hanno le fangie i metatarsi i metacarpi i metatarsi che hanno i piedi allora guardate se siete capaci di trovare due mani uguali mettete 500 persone fatevi tendere la mano sono tutte mani ma non sono uguali e tra l'altro se no ma questa questa si assomiglia proprio tantissimo ma le impronte digitali non sono uguali sapete che le impronte digitali quante cose attestano il nostro essere unici e ripetibili per esempio le impronte digitali per esempio il dna adesso dico la prima cosa mi vengono in mente ma sarà una macerva d'accordo il dna mio è il mio l'impronta digitale mio era mia non ce l'ha nessuno un altro tratto caratteristico è la voce tutti parlano ma vi rendete conto il nostro signore che ha fatto secondo che aspira fa immaginate quanti esseri umani che creerà insomma fino alla fine del mondo tanti adesso siamo 7-8 miliardi in giro e non c'è uno che ha la voce uguale a quell'altro dobbiamo pensarci ogni tanto a queste cose la voce è una di quelle cose che ti fa proprio tu senti la voce e zompri subito perché la voce è un tratto inconfondibile della della persona umana il creatore non si ripete nelle sue opere attenzione e neppure si trovano due glorificazioni identiche capite che significa cioè la gloria che speriamo avrò io in cielo non c'era nessuno il grado di gloria potrà essere lo stesso di altri no è come due esseri umani sono uguali ma la mano di una è diversa dalla mano dell'altra e quindi e quindi capite che in cielo siamo tutti quanti desiderati perché io posso pure aver come dire conosciuto 500 beati e mi sono interpretato con 500 beati rimangono 500 milioni però per dire tanto per far qualche numero non so quanti quanti sono e io sono attratto degli altri 500 milioni perché so benissimo che stanno 500 milioni di godimenti differenti e bellissimi tutti quanti ebbene queste diverse beatitudini riprendendo la lettura si trasmettono si intercomunicano tra quelli che si salutano in modo celeste e la cosa più meravigliosa attenzione è che ogni volta che si saluta una stessa persona diciamo questa la conosco e no e no si ricevono nuove sfumature di felicità giacché la beatitudine non è stazionaria ma perfettibile dentro il grado di raggiunta in proporzione geometrica tensione fino all'infinito matematico senza arrivare a me ovviamente a un panteismo nulla e nessuno può uguagliare l'eccellza maestra del nostro dio chiaro? quindi io c'ho una mia fiammetta d'amore che me la incontro in paradiso saluto qua la mano bello esplosione di gioia poi la rivedo un giorno dopo dico vabbè non la risaluto tanto no acqua la mano un'altra volta non era come un'altra volta precedente poi un'altra volta quindi capite capite perché qui la beatitudine infinita del cielo è un pozzo senza fondo inesauri è un continuo dice Riccardo perché si sente piacere nel saluto di mano qui sulla terra ad una persona apprezzata ripete poi la stessa cosa sembra che gli avesse già chiesto comunque con pazienza della madre risponde questo piccolo piacere è come il gaudio incipiente anticipato dall'istinto della gloria futura del saluto di mano abituale nella patria qui si condivide la gioia mediante il linguaggio le attenzioni i regali sono i modi con cui noi come dire ci scambiamo l'amore no tra umani e invece nel cielo mediante la compenetrazione amorosa del saluto di mano celeste più facile no come vedi il cielo non consiste in una confusione diluente di beati ma i piacevoli interrelazioni personali e adesso allacciamo le cinture di sicurezza perché dice Riccardo ma è affascinante il saluto di mano tra i beati quanto più non lo sarà con nostro Signore Gesù Cristo con la Madonna Santissima non vorresti dirmi qualcosa al riguardo che ce lo danno a stretta di mano Gesù e Maria che dite rispondete l'amata sì esiste un gaudio imparagonabilmente migliore del semplice saluto impenetrativo l'interpenetrazione ineffabile con loro amorosissimamente e attenzione assolutamente totale non solo la mano fusi fusi qui conosce un po' la divina volontà comincia a pensare alle fusioni che si fanno anche in questa vita ovviamente come atti di volontà non si possono godere questi diretti in questo mondo e attenzione a quello che aggiunge però la prima e la seconda aggiunta tuttavia l'intensità di questi gaudi dipende dal grado di gloria meditato in questa vita buona guarisima a tutti figli e miei cari ricordate che i santi nessuno è così folle da voler tornare sulla terra c'è solo un motivo che gli fa desiderare di tornare sulla terra fare qualche penitenza in più fare qualche digiuno in più prendersi qualche croce di più fare qualche atto di virtù in più per godere un po' di più di quello che stanno godendo in paradiso quindi fino a quando ci siamo io voglio bene amici miei siate intelligenti le cose sante solo con le cose sante va il proverbio dei pagani peccatori viziosi che ogni lasciata è persa qua ogni lasciata è persa cioè abbiamo solo questa vita per procurarci un alto grado di gloria ce ne sta un altro cioè tu stasera vai a dormire tu che stai ascoltando la diretta che hai fatto oggi cioè quando facciamo l'esame di coscienza non guardiamo soltanto per carità dobbiamo guardarli i peccati che abbiamo fatto le imperfezioni i difetti per carità quello dobbiamo sempre tenere di sotto controllo ma di cioè mi sono meritato un po' del paradiso oggi ho fatto qualcosa di buono per l'amore del signore certo è perfettissimo come lo facciamo tutti quanti cioè oggi è venerdì di quaresima non è obbligatorio il digiuno di quaresima ma io se fossi in voi mi può io lo farei perché se stanno appresa le leggi della chiesa adesso sono diventate veramente estremamente miti un digiuno in più o in meno ragionate è la stessa cosa dall'altra parte ma assolutamente no assolutamente no no non lo è e quando muoio vediamo un po' fate un po' dei conti quanti digiuni ho fatto fino a oggi stiamo in quaresia parliamo del digiuno uno mai tre dieci cento mille duemila cinquemila diecimila trentamila quanti non fatti guarda che il nostro signore il conto ce l'ha perfetto e quando saremo morti dopo il conto tu hai fatto tre mila quattrocentosettantasei digiuni per esempio se uno fa il digiuno il mercoledì e il venerdì per esempio non è che c'è tanto le settimane sono cinquantadue l'ottava di Natale l'ottava di Pasqua non si fa nei digiuni quindi cinquanta per due facendo se so dieci anni che fai il digiuno a pane e acqua so mille digiuni tanto per dire che fai un conto se so trent'anni che fai il digiuno a pane e acqua so tre mila digiuni giusto? quindi non c'è da stupirsi e attenzione la santa comunione sulla terra è un annuncio di quella del cielo attenzione la santa comunione qui è un anticipo della compenetrazione con il nostro Signore Gesù Cristo celeste è un anticipo perché nel mistero del sacramento le cellule di Gesù diventano le mie il sangue di Gesù diventa il mio l'anima di Gesù è fusa con la mia quando faccio la comunione la divinità sua mi abita mi inabita al cento per cento per sentire qualcosa dei diletti immensi che procura la santa comunione è bisogna imparare a farla bene bisogna avere una vita di intima comunione stabile e ordinaria con Gesù vedrai comunione che te fai l'essere umano è stato creato sentite per ricevere l'infinita tenerezza divina siamo stati creati per questo naturalmente senza sorta di panteismi nirvana o c'è i maomettani in nirvana c'erano i buddhisti c'erano i maomettani li lasciamo per da loro e il panteismo peggio ancora ma l'amore universale si realizza sempre con indicibile affetto soltanto l'uomo egoista trincerato nella sua crosta di superbia si rende incapace di percepire perché qui si percepisce non si vive ma si percepisce la tenerezza universale si conforma con il maschilismo che supera in stoltezza l'istinto delle bestie quindi la santa comunione è un anticipo e io ultimamente in questi ultimi giorni in più di qualche circostanza l'altro ieri mattina quest'altro ieri c'era una meditazione sulla dina volontaria parlava di questa cosa qui ho anche alzato un pochino i toni perché non è mica possibile che la comunione sacramentale adesso sia ridotta a profanazioni su profanazioni oltraggi su oltraggi e anche quel qualcuno che non profana non fa oltraggi fa comunque delle comunioni pessime non si ferma neanche un minuto a stare con il Signore e a parte che si perde tutte quante queste cose direi che in misura minore ma comunque oltraggio e non diventa più santo e perde un'occasione immensa di santificazione perché la comunione sacramentale non è soltanto un anticipo del godimento celeste ma è anche quando è fruttuosa un input una scalata in avanti della santità riprende Riccardo tua madre non mi vince che nel traversare l'inferiata quasi inciampò con me e Teneramata risponde non ha fatto caso a te per la gioia di vedermi e per l'insolita tua presenza come viatore in questo paratempo diciamo questo chi è come fa un viatore a stare in questo paratempo ci può stare perché ce l'ha portato per un miracolo una concessione divina a Teneramata lui non avrebbe potuto stare lì dove stavano collocati in quel momento ma non ti avrebbe fatto del male semplicemente ti avrebbe attraversato senza causarti a condanno e così vedrai che in cielo non occorre un regolamento di transito nonostante si tratti di movimento universale assai complesso a velocità incalcolabili e in tutte le dimensioni del cosmo vedete a velocità incalcolabili ho detto che sicuramente noi andremo più veloci della velocità della luce se no ci vogliono 100.000 anni uscita dalla via lattia io non lo so noi non potremmo conoscere la velocità della luce non la potremmo sostenere adesso la velocità della luce lo dico ai ragazzini accendi la luce poi conta fino a uno e sappi che la lampadina che è acceso in un secondo si è fatta scolte il giro della terra perché la circonferenza della terra sono 50.000 km e la luce viaggia 300.000 km al secondo cioè capite 300.000 km al secondo sei volte il giro della 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 in un secondo io posso andare a me in qualunque parte del del mondo cioè i sogni che tutti quanti adesso voglio andare a New York chiudo gli occhi e puff sto già a New York adesso non è così ma sarà così altro che New York voglio andare in un secondo voglio trovarmi in un'altra galassia ci vai in compagnia di quella mia chiama d'amore ci andiamo insieme chi lo sa se qualche santo potrebbe voler andare in compagnia della madonna in qualche altra galassia io ho qualche sospetto insomma però non ce sa mai insomma siamo a quello che dice tenere la nada senza andare oltre no quindi capite il traffico cosmico però non c'è bisogno di cosa della strada perché tanto se te incontri non ti incontri ti attraversi quindi non succede niente non succede anzi magari in quella attraversare c'è pure un attimo qualche gradevole sensazione lihan passan io sorrido amici cari ma questo c'è scritto qui avreste bisogno di semafori di polizia se ci dovesse essere il come dire il regolamento di transito dice no no non servono queste cose al posto loro noi contiamo sull'onipotenza divina confiliamo assolutamente nel nostro Dio posso dire se imparassimo a fare un pochino di più pure noi le cose andrebbero molto meglio ma molto molto meglio perché l'onipotenza divina confida quasi nessuno ed è la più grossa cretinata che si possa fare la più grossa perché quando uno comincia ad affidarsi un po' sul serio ad abbandonarsi rimani con due occhi spalancati grossi così la sensazione che non sembra vero ma sarà una coincidenza ma sarà un caso perché purtroppo la nostra testolina è sempre uomini di poca fede disse Gesù agli apostoli no hai dubitato uomo di poca fede è un altro modo di campare un altro cioè che non può essere messo in crisi da qualunque cosa esterna che accada esterna o interna malattie morti tumori cataclismi terremoti disastri crisi ecclesiali pandemie o vere o false non te ne porta niente di niente se si confida sull'onnipotenza divina quante volte ho detto la madonna il più grosso complimento che il diavolo ha fatto alla madonna durante in esorcismo sta scritto nel libro di padre ebamonte la vergine maria e il diavolo degli esorcisti padre ebamonte attualmente il presidente dell'associazione internazionale degli esorcisti allievo di padre amorti il più grosso complimento che ha fatto il diavolo alla madonna lei non ha avuto mai paura io non gli ho fatto mai paura la paura in lei non c'era ma perché non c'era perché lei confidava nell'onnipotente per questo che l'angelo ha detto il signore è con te che dice San Paolo si dice con noi ma chi sarà contro di noi ma che ma che ma che ma che vogliono fare che fanno né morte né vita né presente né futuro né altezza né profondità zero niente mi può separare da Dio San Paolo questo lo scrive rispetto ai romani se non ricordo mai dice perché noi mortali non ci riusciamo dice Riccardo ma ci scontriamo con gli ostacoli ma perché siete ancora avviatori risponde 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 tenermata facile elementare Watson no siete ancora avviatori vivete in un regime di fede non partecipate gloriosamente del potere divino i dati partecipano dei poteri divini noi qui in piccolissima parte ma c'è un altro motivo la grande malizia del mondo alcuni uomini ideatori commetterebbero delle atrocità se possedessero così grandi doni immaginatevi certi certi soggetti no qui c'è la volontà umana in paradiso la volontà umana non c'è più cioè in paradiso regna la volontà divina e tutte quante le volontà dei beati sono perfettamente all'unisono con quella divina non c'è pericolo ma qui immaginate se un pazzo gli metti gli metti in mano questi superpateri che cosa va a succedere hai ragione dice Riccardo Dio non dà ali agli scorpioni cita un proverbio tenere amata se il solo sfiorarmi la mano collita mi produce molto benessere ma che cosa avrei sentito se tua madre mi avesse attraversato il beato risponde può fare l'interpenetrazione gloriosa con amore o senza se la fa senza amore come quando la mia mamma passò attraverso l'inferiata e i corpi delle persone sedute non si produce il minimo piacere però aggiungo io non c'è neanche nessun dolore ma se lo fa con amore di carità prova magnifici godimenti quanto è importante l'amore nel paradiso dice Riccardo è decisivo risponde tenere amata ma non soltanto in cielo ma sin dalla vita terrena l'amore sin da qui si comincia a notare il suo prezioso influsso dove c'è vero amore amore di carità abbonda sempre il caudio qual è il secondo frutto dello spirito santo il primo qual è l'amore no? studiamo un pochino di carichismo amore gioia e pace stanno in ordine gerarchi vengono uno dopo l'altro se c'è l'amore di carità c'è sempre la gioia ma gioia sovrabbondante è questo che San Giovanni Bosco diceva che la santità consiste nello stare molto allegri non l'allegria dei bivacconi la stolta allegria la chiamava San Bernardo dei mondani non è allegria quello è sordimento quello è altro ma la gioia profonda che traspare nella nostra persona le persone se ne accorgono se tu sei nella gioia oppure no ci deve essere l'amore di carità attenzione l'amore di carità vuol dire che tu impazzisci l'amore di Dio e conseguentemente anche evidentemente in maniera subordinata e secondaria l'amore del prossimo e anche di santo amore di te stesso ho fatto recentemente una predica domenica scorsa che c'era la prima lettura amerei il prossimo tu come te stesso adesso che abbiamo conosciuto cos'era la nostra anima noi abbiamo il dovere di amarci santamente l'amore di se stessi non è una cosa negativa non è l'amor proprio non è l'egoismo non è che io mi vado a procacciare tutti quanti i piaceri e me ne infischio del prossimo o mi vado a pensare solo alla panza mia e non mi importa niente di nessuno questo non è l'amore santo di se stessi ma l'amore santo di se stessi è l'amore per la nostra anima il rispetto che dobbiamo avere anche nei confronti di noi sotto tutti i punti di vista dove c'è l'amore di carità dice c'è sempre abbonda sempre il gaudio anche se certe volte nei viatori chiaramente si mescola con le sofferenze proprio dello stato di prova che è la vita mortale qui stiamo in prova non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova dice il sottum presidium qui siamo nella prova e quindi ci sono le sofferenze in questa vita ti spiego ancora di più la mia mamma ed io abbiamo goduto moltissimo in questa compenetrazione tuttavia c'è una grande varietà di forme di sfumature attenzione e così risolviamo anche il problema che qualcuno ha paura dice ma io non ci voglio andare in paradiso perché io ce l'ho sposato ho una moglie con mio marito a me non mi piace sta tanto bene che qualcun altro si va a compenetrare con mia moglie e con mio marito per carità pensiero comprensibile allora qui c'è una grande varietà di forme di sfumature per esempio quando io e te ci compenetreremo gloriosamente sposata lei in terra e sposato lui in terra la nostra gioia vicenda sarà immensamente maggiore già che siamo stati designati dal nostro Dio per consumare piene interpenetrazioni celesti quindi capite parlerà più avanti tenera madre allora il matrimonio che cos'è perché qui su questa terra c'è il matrimonio e tutte queste cose se questi erano fatti l'uno per l'altro sono stati pensati a Dio l'uno per l'altro sulla terra li sono visti quei cinque minuti che lei ha cantato la ragazzocina della carriera e basta non potevano sposarsi può farsi tante domande siamo stati designati dal nostro Dio per consumare piene interpenetrazioni celesti non si tratta di matrimonio alla maniera della terra qui comincio ad accennare qualcosa è una cosa molto più elevata è la sublime realizzazione dell'amore di carità al modo esultante dell'antila sapete che io dico subito qualcosa il matrimonio per quanto due sposi possano essere che è molto raro un matrimonio potrebbe essere una cosa veramente stupendissima se fosse tra due santi tanti non vuol dire che non vivano con la mia moglie ci sono stati dei santi tipo quello di cui porto il nome il mio secondo nome è Enrico prima di Maria al battesimo San Enrico è stato un santo imperatore che ha fatto il matrimonio bianco con Santa Cuneconda era marito e moglie ma non sono mai stati insieme però sono stati tantissimi santi insieme a Santa Giovanna Beretta Molla per esempio che sono stati coni per esempio se uno si legge le lettere d'amore di Santa Giovanna Beretta Molla e di Pietro Molla io quando lessi le lettere d'amore rimasi commosso ma quelli erano veramente due persone formate in altri tempi anche come dire la ultimità cioè quelli Santa Giovanna Beretta Molla in sei anni ha fatto quattro figli ha fatto e con quattro c'è morta c'è sei anni quattro figli cioè tutte queste cose oggi sono completamente andate nel dimenticatoio ma si attacca a parlare poi non 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 queste cose devono tornare devono e torneranno e torneranno una coppia di santi però quanto possano essere santi c'è sempre una componente egoistica è quasi ineluttabile quando siamo qui lì no cioè l'amore di carità vuol dire che queste due persone fatte l'una per l'altra si danno a vicenda ti do tutto e tu mi dai tutto quindi in un incontro che poi produce certamente diletto e godimento ma non viziato neanche minimamente da niente che non ti amore per quanto possiamo rappresentarcelo qui mi sembrò chiude ricardo e chiude anche noi per oggi sta sempre troppo presto il tempo poter per quanto mi riguarda mi sembrò che di nuovo si accendeva la luce della mia mente incominciai a sentire senza comprendere la delicata ma forte providenza di dio su ciascuno di noi sentivo che senza di essa il povero mortale andrebbe allo sbaraglio ebbi la chiara impressione che la mia resistenza a credere nella suave e vigorosa influenza di dio su ogni uomo mortale era dovuto dovuto ad un sentimento di autosufficienza peccato gravissimo da confessare con sincero pentimento infondata e unita ad una superbia sottilmente nascosta faccio da solo quel maschilismo rimproverato dalla mia bella maestra sapete che i maschi c'hanno uno è maschio si può fare le cose da solo cioè la prova dell'essere maschio è non mettere mai piede in chiesa perché andare in chiesa è roba da donne no? questa è la mentalità proprio bacata dell'occidente è di debolezza perché se tu c'hai bisogno di dio e te va senti il prete queste cose qui è perché sei debole io invece che debole non sono come te non c'ho bisogno di nessuno né di dio né di una chiesa sentita né di fare queste cose qui questo è quello che si fa in giro nei paesi non ve dico va bene amici ci aggiorniamo la prossima volta se ti vuole che Dio vi benedica e la Madonna sempre tutti vi protegga la prossima volta Grazie.